Il momento per la nostra città è un momento in cui ritorniamo qui in questo luogo storico, in questa che era la casa dei conversanesi, che è il simbolo della città di Conversano, per cominciare a cogliere i frutti di un duro lavoro, un lavoro che stiamo facendo con le nostre politiche culturali, con il nostro ufficio, il nostro assessorato delle politiche culturali, per cui ringrazio tutto l'ufficio, ringrazio l'assessore per questo duro lavoro. E' un lavoro che oggi mette in risalto quella che è un'istituzione per la città di Conversano, e cioè la banda. Oggi una grande fortuna, da una ventina d'anni, ne abbiamo due di banda, dico bene, sono vent'anni, e la fortuna vuole che queste due istituzioni della città di Conversano stiano lavorando insieme, stiano lavorando di concerto e stiano lavorando con l'amministrazione comunale. E quindi inauguriamo una mostra in quella che abbiamo voluto concepire come la zona per le mostre temporanee, perché quasi tutto il resto del sistema museale conversanese sarà destinato a mostre permanenti, perché la nostra, scusate non ho tolto la suoneria di questo benedetto telefono, ero certo di averlo fatto. Bene, quasi tutto il resto è destinato a mostre che non sono temporanee, che sono invece permanenti, e cioè la nostra pinacoteca. Il nostro museo civico a San Benedetto diventerà una mostra permanente di quelli che sono i nostri beni archeologici. La mostra del Netti è un'altra zona per mostre permanenti. Questa parte per il momento è abbastanza permanente, ma potrà ospitare in seguito qui dove abbiamo nozze al castello. Molti di voi la conosceranno già, perché è già qui da due anni, grazie al Centro Studi Marangelli e grazie alla famiglia Pasquale Martino che ci ha messo a disposizione quest'altro patrimonio. Bene, oggi andiamo ad inaugurare con le bande un'altra parte dove ci saranno mostre temporanee e quindi si potranno alternare nel tempo una serie di artisti, una serie di situazioni che daranno la possibilità a tutti quanti noi conversanesi di fuire di questi spazi in modo davvero allettante, davvero interessante. E che ci daranno la possibilità quindi di crescere. Beh, le bande sono una nostra istituzione. Iniziamo con le bande, ma poi alle bande destineremo, dico bene Assessore, una zona in cui ci sarà anche lì una mostra permanente delle nostre bande. e avremo quindi la possibilità di dare un valore sempre più forte, sempre più pregnante a queste istituzioni, un valore che poi potrà essere apprezzato, lo dicevo l'altro giorno, da tutta la città di Conversano, ma mi auguro, mi auguro davvero, mi auguro, soprattutto dai nostri giovani, perché noi conosciamo la banda, la apprezziamo, la amiamo, in qualche modo amiamo la musica, abbiamo, grazie a queste due associazioni, grazie a tutti coloro che ne fanno parte, ringrazio per loro chi li rappresenta in questo momento, molto degnamente devo dire, vi ringrazio davvero tanto, perché abbiamo la possibilità, grazie a voi, di accrescere le nostre conoscenze musicali e di portare il nome di Conversano, molto lontano e davvero con grande motivo di orgoglio per l'intera comunità. Bene, concludo con i ringraziamenti, ma davvero godiamocela questa mostra, godiamoci la nostra banda e dicevo, facciamo in modo che i nostri giovani la conoscano e la amino come noi, anche più di noi. Grazie a tutti, grazie a tutti, di andare a godere della mostra, vorrei che ci sono accoglienti e non abbiamo finito qui. La fase successiva sarà ovviamente poi adesso di stipulare le convenzioni con tutte quante le realtà con le quali stiamo ovviamente collaborando. Però l'ingraziamento veramente di cuore va a due associazioni, ovviamente ai due presidenti qui presenti, ma tutti coloro perché sono dietro alle associazioni che sono assolutamente capaci e che ci danno una mano quotidiana. Non è stato facile censire tutti i patrimoni per decidere quello che andava in questa mostra esposto, anche perché, uno sbaglio quando dico in questa mostra, l'idea è che quando avremo la sezione definitiva delle nostre bande cittadine, sezione del territorio, così come definita, nella quale ovviamente sarà presente anche la sezione degli abiti storici che vediamo qui sulla sinistra, noi avremo la capacità, per quanto è grande il patrimonio, di rinnovare questa esposizione all'interno della sezione, quasi ogni sei mesi, quindi immaginate che per gli stessi conversanti, se ogni sei mesi dovesse un'unione di questa mostra, non c'è un milione di un uomo, immaginate quanto è grande il patrimonio a cui ovviamente le due associazioni possano attingere e tutti quanti noi per tutelare il nostro patrimonio locale. Quindi un grande grazie a voi, al sindaco che mi da sempre la possibilità di combattere queste mie battaglie in qualche modo complicato, perché capite bene che se non c'è la parte anche dell'amministrazione la volontà di andare avanti, noi abbiamo fatto un bando l'anno scorso novembre e la legione ci ha assolutamente snovato, noi siamo andati comunque avanti con un po' di nostra, abbiamo potuto passare la nostra, l'ostimente non sarebbe stato possibile. Alle ragazze che sono lì, a Claudio, al maestro Claudio, per un motivo, sì sì, ragazzi, sempre come io le diamo, le diamo mai per noi, per quanto tempo lavoriamo. Loro hanno collaborato a tutti i progetti dall'inizio, di Claudio, chiaramente ha fatto la parte del professionista e del musicologo che ci ha seguito in dettaglio, ma il mio ringraziamento va anche qui a Vinuccio per quanto ha fatto di persone manualmente, ad Alfredo, per quello che ha realizzato un allestimento a Rocco e a Nico per quanto riguarda le foto e tutto ciò che ci è stato necessario veramente mettere in piedi e anche ovviamente qui a Maria che ci ha seguito dal punto di vista, invece, giornalistico. Sicuramente il medico a Rocco, spero che non l'avremmo fatto, però il mio ringraziamento anche a lui. Ultima cosa e chiudo, questa mostra dovrebbe durare quattro mesi, io dico che dovrebbe perché già dei progetti, qualcuno ci chiede, probabilmente che vada avanti, se sia accaduto per quella degli abiti storici, dovrebbe durare quattro mesi circa, se non circa un anno e mezzo o due, che va avanti interrotamente, quindi vuol dire che c'è anche tanta voglia di di appropriarci di queste cose, lo faremo con i ragazzi, lo stiamo facendo grazie ai festival che stanno diventando l'estate contaminando la stessa logica delle bande, perché in qualche modo ci si possa riavvicinare. Io vi dico che da piccolo non ero uno dei più grandi perventi ascoltatori di bande, però non andavo via dalla festa se non andavo a sentire la vita pubblica che tutti quanti voi sicuramente conoscete. Io penso che questo neanche più oggi facciano i ragazzi, quindi almeno dobbiamo recuperare questo minimo, chiamiamolo sindacale. Poi ti dà secondo me sarà tutto più semplice riportarvi e avvicinare quello che è indubbiamente un grande patrimonio. Chiudo e grazie a tutti. Bande, maestri e partiture nella storia di conversano. Io invito il maestro Angelo Schiruzzi a... Buonasera a tutti, il mio personale ringraziamento, ma anche quello della mia associazione all'amministrazione comunale, al sindaco e all'assessore, perché veramente in maniera tenace hanno voluto che le nostre associazioni cominciassero a collaborare. Io con grande entusiasmo dal primo momento ho sposato questa idea, perché sono convinto che insieme veramente si possa crescere in maniera incredibile. E questo protocollo d'intesa e la realizzazione di questa mostra sulle bande sono certo che è il primo passo per collaborazioni sempre più forti, affinché conversano la sua storia, il suo patrimonio musicale, possano rivivere. Quindi non solo una mostra fatta di foto, documenti che possono essere lettera morta, ma questi documenti, questi spartiti, queste foto vanno rivissute, devono continuare a vivere. E questo è l'augurio, l'auspicio che faccio a tutta la città di conversano. La professora Dugiero Piumo è l'anima dell'Associazione Musicale e Culturale dell'Età Piantoneli. Grazie per l'anima. Non vi saluto per l'ennesima volta, avrete ancora altri saluti, vado dritto all'obiettivo. Dal 1985 la selezione Piantoneli e i suoi dodici fondatori, per fortuna erano dodici, mancava il tredicesimo della situazione per fare il cenacolo della mia vita. E si fossero degli obiettivi molto alti. Riunire i volenterosi amanti della musica, era la lezione iniziale che aprilla lo statuto della situazione culturale di Giuseppe Piantoneli. E questi volenterosi, che poi da dodici sono diventati 120, 130 ed oltre, e quindi sono moltiplicati nel tempo, per fortuna, si sono impegnati dal primo momento a trovare testimonianze della vita musicale, soprattutto bandistica, per quel che è il valore storico del concetto della vecchia banda municipale di Tondasano, diventata poi il concetto musicale, eccetera, eccetera. E dal 1992 poi ha la dizione di Giuseppe Piantoneli, così come l'altra, fa riferimento all'altro grande maestro delle bande condensanesi, Gioacchino di Monti. Perché fa questo? Perché si voleva sviluppare la cultura musicale, soprattutto per la bandistica, a Conversano, con l'obiettivo poi di rendere questo esempio anche ripetibile nella Puglia, perché le bande da giro sono un patrimonio di tutta la Puglia, non solo a Conversano. uscendo fuori da quel carriere di Dorianz, che ogni tanto si leggono, si ascoltano, quasi che tutto sia in agonia. Noi non volevamo questa agonia, non la vogliamo soprattutto, e abbiamo trovato degli strumenti per dare vita a questa storia e a tutta tradizione culturale importante. La Piantoni ha trovato una serie di donatori eccezionali, prima di tutto il signor Santone Bolognino, che purtroppo, per motivi di salute che non è qui con noi, persona da cultura generale moderata, ma da una cultura bandistica eccezionale, che per anni aveva impiegato i giorni, i suoi tempi così morti dalla giornata, lui era un infermiere, quindi io lo conoscevo da altri tempi, quando anch'io lavoravo in ospedale, e tutto il resto del nostro giornale lo dedicava ad accogliere le testimonianze della vita bandistica e conversano. Beh, alla fine ci sono stati qui altri donatori, da Piantoni e da altri, che ancora un anno fa c'è stata addirittura una donazione dagli Stati Uniti di una serie di vinili dei grandi cantanti del Metropolitan degli inizi di secolo, abbiamo messo su un archivio che è costituito da 13.000 parti musicali spartiti, video e audiovisivi, che testimoniano appunto questa luminosa storia, questo presente della sfida musicale e bandistica di conversano. Grazie a voi. 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 Grazie a tutti.